Ci sono domande? Messore, cosa hai pensato della musica metal? Ah, il metal. Sì, certo, la musica metal. Mi perdoni, ma il metal non si può certo definire musica. Quello è solo un rumore assordante, una cacofonia continua, un seguito di ruggiti e chitarre distorte, una batteria pesantissima, un basso inesistente, senza armonia né giudizio intellettivo, il metal è la morte della musica! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì!